La morte di Sofia, 16 anni, a Favara, i genitori hanno deciso di donare gli organi. Certo, questa è un'immane tragedia, perché non è possibile che una ragazza di 16 anni possa morire in questo modo e senza che chi l'ha investita le abbia dato soccorso. Questo gesto dei genitori è sicuramente un grande gesto di umanità, di generosità, perché, certo, Sofia lascerà un grandissimo vuoto, perché non ci sarà più in famiglia, tra gli amici, però i genitori lo stanno facendo anche perché sanno che gli organi di Sofia continueranno a vivere insieme ad altre persone che da questa sua scomparsa avranno la possibilità di riaccendere la propria speranza di poter continuare a vivere. Condoglianze alla famiglia, da parte mia come consigliere provinciale Aido, ma anche di tutta la sezione di Agrigento e della Presidente nazionale Flavia Petrin, con la quale ci siamo sentiti poco fa. Naturalmente in provincia di Agrigento, grazie anche a quello che è il lavoro che state svolgendo come Aido provinciale, ma anche nelle varie sezioni comunali, c'è una crescita, quindi una maggiore sensibilità alla donazione. Non è facile, insomma, per due genitori che hanno una figlia a 16 anni, sono al capazzare della figlia a 16 anni, prendere una decisione del genere, però è un grande gesto di solidarietà. In provincia di Agrigento sta crescendo questa sensibilità? Sì, sicuramente, sta crescendo questa sensibilità. Tantissime persone, anche perché ogni gruppo, per quello che riguarda la provincia di Agrigento, ha la sua pagina Facebook. Siamo contattati anche da gente di fuori provincia. Abbiamo stimolato anche tanti altri comuni. Per esempio, tra non molto, si creerà un gruppo pure a Serra di Falco. Probabilmente ci sarà anche un altro gruppo a San Cataldo. Quindi, cioè, la cultura sta crescendo. Sicuramente gli organi di informazione ci stanno dando una grossa mano d'aiuto. Il lavoro che facciamo noi lo facciamo perché ci crediamo in Aido e ci crediamo a poter dare la speranza a tante persone che oggi non hanno più speranza di vita di potergliela ridare. Rino Banchieri, quando hai pensato a distituire la sezione Aido a Canicetti, insomma, era un momento di festa perché si pensava a fare qualcosa per la città, per chi magari aveva potuto avere bisogno. Quando si tocca con mano il dolore, la morte di una ragazzina a 16 anni, noi siamo genitori e abbiamo figli anche piccoli di quell'età, quindi possiamo capire bene, come tutti gli altri possono capire bene, qual è il dolore che si può provare. Però, ecco, forse questo conferma e rafforza l'idea che avete fatto bene. Sì, sicuramente è una cosa che inizialmente era solo teoria, era solo un'idea. ma il fatto concreto che ci siano delle donazioni e che dia la possibilità a tanti malati di avere una speranza di poter ricominciare a vivere, è davvero una cosa piacevole sotto certi aspetti. Anche se rimane il dolore fortissimo per la perdita di una ragazzina a 16 anni, e poi in questa maniera morire così, una tragedia. Comunque posso soltanto dire che con l'Aido di Canicatti stiamo sempre aumentando le adesioni, siamo presenti in tantissime manifestazioni e si sta creando quella consapevolezza che è possibile donare, è possibile fare un atto di amore, un gesto di amore, anche in un momento così tragico, anche in un momento così doloroso per la famiglia. Volevo appunto ringraziare questi genitori che hanno fatto un gesto di amore che veramente è ammirevole. Davvero complimenti. Grazie. Grazie.